Ce l'ho portato io. Cercava lei, Filomena. Quella suora, l'ho vista a Roscree. Suora Hildegard. È più vecchia ora, ma è sicuramente lei. Ma loro mi hanno sempre detto che non sapevano dove fosse. Ma a noi dissero che non sapevano dove trovarla. Ci dissero che lo aveva abbandonato quando era bambino. L'ha cercato in tutti i modi. Ha passato una vita a cercarlo. Io non ho abbandonato mio figlio. Adesso è là. Che vuol dire? Ho dovuto lottare non poco con suo padre. Lui voleva seppellirlo in America. Ma era l'ultimo desiderio di suo figlio. Lui voleva tornare a casa. Seppolto a Roscree. Lui voleva tornare a casa. Il cerchio si è chiuso? Sì. La fine delle nostre esplorazioni sarà arrivare al punto di partenza e per la prima volta conoscere quel luogo. È bellissimo.